Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la riviera adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della riviera romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Soccorrere una persona rispettando le norme anticontagio. Questo è il tema al centro della giornata di formazione che domenica 5 luglio ha visto impegnati i tecnici della squadra forra regionale, un corpo specializzato nel soccorso alpino e spirologico che opera in contesti in cui, oltre a pareti rocciose e luoghi impervi e ostili, è presente l'acqua. Tutti i tecnici del soccorso in forra della Lombardia hanno partecipato a due sessioni a Zogno, nella Bergamasca Val Brembana, nei pressi del torrente Caucio, Valle di Carubbo e ad altre tre sezioni nel Lecchese, nel torrente Moregge, sul monte Moregallo a Val Madrera. I tecnici sono stati aggiornati dagli istruttori sulle procedure tecniche e operative rilasciate dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso in Forra e dalla Scuola Nazionale dei Medici Alpini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Spirologico, riconosciute dalla legge dello Stato. In programma vi erano una serata in videoconferenza per la presentazione teorica e sanitaria delle normative sulle procedure da mettere in atto durante le giornate di formazione o durante l'attività di intervento e una parte pratica in ambiente nei torrenti indicati. Si diventa tecnico di soccorso in forra dopo aver maturato esperienza in ambito alpino e spiologico e con una formazione successiva nella progressione in questo tipo di ambiente e nelle procedure connesse agli interventi in forra. Servono quindi competenza, abilità fisiche e mentali per operare in condizioni sempre più complesse, dove alle difficoltà di intervenire in luoghi impervi e ostili si aggiunge la necessità di intervenire in sicurezza a causa del coronavirus.